La riproduzione di una pianta tramite semina è un procedimento abbastanza semplice, che tuttavia richiede alcune attenzioni per quanto riguarda il terreno, le temperature e la germinazione Prima di tutto però bisogna assicurarsi di avere a disposizione semente di buona qualità, che si ottiene da esemplari particolarmente sani e robusti, dotati di gradevoli caratteristiche estetiche e morfologiche Una volta raccolto il seme sulla pianta sarà necessario pulirlo, selezionarlo e immagazzinarlo in vista della semina Le semine vanno effettuate all'inizio della primavera Per preparare il letto di semina stendete uno strato di ghiaia sul fondo del contenitore, per facilitare la scolatura dell'acqua Poi va messo il terriccio mischiato con sabbia fino ad un centimetro dal bordo del contenitore Poi va messo il terriccio mischiato con sabbia fino ad un centimetro dal bordo del contenitore, per facilitare la scolatura dell'acqua Poi va messo il terriccio mischiato con sabbia fino ad un centimetro dal bordo del contenitore, per facilitare la scolatura dell'acqua Spargete i semi e ricopriteli con uno strato di terra Infine comprimete e innaffiate con innaffiatoi a rosa piccola Poi va messo il terriccio mischiato con sabbia fino ad un centimetro dal bordo del contenitore, per facilitare la scolatura dell'acqua Poi va messo il terriccio mischiato con sabbia fino ad un centimetro dal bordo del contenitore, per facilitare la scolatura dell'acqua Mantenete i vasi alla temperatura di 21 gradi, in un luogo buio e umido, con un vetro e un foglio di giornale sul recipiente Quando le piantine saranno nate Togliete il giornale e il vetro ed esponete al sole, ma non alla luce diretta, senza concimare Trapiantate le piantine quando avranno un paio di foglie in cellette di polistirolo In seguito verrà fatto un altro trapianto in un recipiente più grande Togliete il giornale e il vetro ed esponete al sole, ma non alla luce diretta, senza concimare Togliete il giornale e il vetro ed esponete al sole, ma non alla luce diretta